buongiorno e anche oggi proseguiamo con lo studio del volto umano femminile qui ho selezionato una serie di volti con varie caratteristiche quindi sei libera di scegliere un'immagine fra queste date io ti suggerirei la prima proprio perché ha delle caratteristiche molto chiare ed è molto ben delineato però sentiti libera di scegliere quello che più ti ispira ovviamente come puoi vedere hanno diverse espressioni, diverse fisionomie appartengono a diverse razze abbiamo una razza qui medio orientale, africana, poi l'europea vedi un po' tu quello che mi raccomando sempre, che tanto sai già è la massima attenzione alle proporzioni e all'espressività come sempre la tecnica è libera sperimenta pure, senza problemi, senza remore e questo è tutto per il momento ti saluto e ti auguro buon lavoro ciao ciao